L'impressione di un'incompiuta, sei d'accordo? Sì, 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 sono d'accordo. Cos'è che secondo te non ha funzionato? Oddio, quando perdi comunque di poco, 4 punti, però ci siamo persi poi a quando abbiamo cambiato il campo a metà del tiebreak, e ha sbagliato più di loro nel tiebreak, questo è un dato di fatto. I set prima eravano punto a punto, sono stati un po' più bravi di noi, quel po' più che gli varrà per una medaglia un po' più bella. Portando qualcosa di positivo da questa partita, che l'Italia riesce a lottare al massimo? Sì, che possiamo giocarcela contro tutti, questa è un'altra prova che la serve una grande squadra, noi siamo una grande squadra e possiamo ribaltare anche noi comunque dei risultati, che secondo me vedendo il terzo set magari siamo partiti bene, ci siamo poi un po' persi, invece possiamo vincere quel tiebreak. Un gran bel ingresso, ma non è bastato per cambiare questa partita? No, non è bastato, peccato perché secondo me potevamo portarla a casa, qualche imprecisione nel secondo set dove loro secondo me non stavano esprimendo un grandissimo gioco, però peccato, resterà sicuramente il rammarico perché perdere una partita così ti fa incavolare. Da fuori è sembrata una grande occasione, anche nel terzo set sembravate poter dare la scossa per portare a casa questa finale? Sì, sì, sicuramente, loro in alcuni momenti hanno giocato una grandissima palla a volo, in altri hanno avuto dei blackout dove noi siamo stati bravi ad approfittarne, non è bastato, peccato, però domani c'è un'altra partita importante e bisogna continuare. A tuo punto di vista un bel ingresso, la squadra ha reagito bene, in momenti difficili hai contribuito alla rimonta? Io faccio il mio lavoro, quello che mi viene chiesto è entrare quando ce n'è bisogno, spero di farlo bene e di continuare a farlo bene. Lì ha già provato ma non è riuscita a portare a casa questa vittoria, secondo te cosa è mancato? Penso che sia stato decisivo il risultato del secondo set, perché magari andare negli spogliatoi sul 2-0 avrebbe cambiato penso la partita, loro sono tornati invece poi nel terzo con più fiducia, lì è stata un'altra partita, è un peccato perché noi eravamo rimasti con la forza di tutti aggrappati al match e peccato perché ci tenevamo tanto. Se guardi una cosa positiva di questa partita? Una cosa positiva è che in queste partite non lascio il tempo che trovano, sono delle semifinali, non sono partite di campionato che valgono punti, queste bisogna vincerle, se vogliamo essere positivi a tutti i costi speriamo di trarne un insegnamento per il futuro. Domani la possibilità di conquistare una medaglia sarà comunque una partita difficile? Sì, sarà una finale, comunque terzo e quarto posto, quindi comunque una finale, sarà una partita difficilissima, comunque sia il risultato di Brasile e Francia, noi questa medaglia adesso la vogliamo e quindi ce la andremo a prendere con tutte le nostre forze.